Non si spegne l'eco dei riscontri unitamente positivi della notizia che ha ufficializzato la firma del protocollo per l'area interna nord-est dell'Umbria che apre la strada ad una serie di progetti per un vasto territorio di 10 comuni con Gubbio Capofila che avranno a disposizione nei prossimi mesi un plafonde di 12 milioni di euro insieme alla città eugubina, anche a Gualdotadino, Pietralunga, Montone, Scheggia, Pasce, Lupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vicono, Ceraumbra, Valfabbrica. Risorse che serviranno a finanziare importanti progetti di sviluppo dei singoli comuni o di aree connesse. Dopo il focus sui tre principali progetti previsti a Gubbio, un'occhiata anche a quanto accadrà a Gualdotadino dove oltre i 6 milioni arriveranno sia in forma diretta sia in forma indiretta o sia interesseranno tutta l'area. Parla di notizia bellissima il sindaco di Gualdo Presciutti che evidenzia la bontà del lavoro sinergico che ha visto tutti i comuni dell'area nord-est dell'Umbria cooperare per cercare di rivitalizzare e far tornare protagonista un'intera zona e non un singolo comune. In particolare per Gualdotadino sono molteplici i progetti a partire dal settore mobilità con la realizzazione di polo principale intermodale presso il piazzale Beato Angelo e piazzale Fulvio Sbarretti per un importo di euro 380 mila, la realizzazione di un piano mobilità sostenibile dell'intera area 10 comuni per un importo di euro 390 mila, la razionalizzazione e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale tra comuni di Gualdotadino, Gubbio e Fossato di Vico per un importo di 480 mila euro. Sul fronte dello sviluppo locale prevista la valorizzazione dei percorsi storici e naturalistici dell'area, la realizzazione del percorso delle sorgenti tra Nocera, Gualdo, Fossato, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e di altri percorsi naturalistici, storici e religiosi per un importo complessivo di 1 milione e 200 mila euro. Mentre sul piano culturale la realizzazione di interventi di adeguamento, riqualificazione e sistemazione del Parco della Roccaflea e della Chiesa Monumentale di San Francesco per un importo di 330 mila euro. Sostegni anche al mondo delle imprese con interventi a beneficio delle imprese culturali, turistiche e artigianali di qualità dell'area per un importo di 800 mila euro. Inoltre attività promozionali connessa allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, non solo a Gualdo ma per tutti i comuni dell'area, per un importo di 200 mila euro. Risorse anche per sanità e sociale con il potenziamento delle cure primarie per la gestione delle maggiori patologie croniche della Hostel Umbria 1, 275 mila euro. Il potenziamento dei servizi di accompagnamento, trasporto sociale, 352 mila euro. Il potenziamento di interventi riguardanti le comunità educanti, 100 mila euro. E interventi di rafforzamento del welfare territoriale, 200 mila euro. Nell'area Gualdese anche progetti specifici nel settore istruzione, dal miglioramento dell'offerta didattica nei plessi con presenza di pluriclassi, tra cui la scuola primaria di San Pellegrino, 100 mila euro. A interventi negli istituti scolastici superiori dell'area come l'Istituto Casimiri, 69 mila e 400 euro. Fino alla riorganizzazione dei servizi scolastici, anche sulla base del rischio sismico. Analoghi commenti si riflettono ancora oggi, anche dall'amministrazione comunale o gubina. Per il sindaco Stirati, quello definito dai 10 comuni e approvato dal Comitato Tecnico del Consiglio dei Ministri, è il più importante atto programmatorio degli ultimi anni. Per questo territorio e per quelli coinvolti, sia in termini di risorse, oltre i 12 milioni di euro, sia in termini di rivoluzione nel concepire una visione di area vasta, consentendo di affrontare i problemi con soluzioni condivise ed efficaci. Parte cospicua dei finanziamenti previsti per l'area interna nord-est sarà attivata mediante bandi regionali e nel momento in cui la regione si appresta ad approvare la strategia e quindi avarare gli atti conseguenti, è evidente che questo rapporto tra area interna e regione ricolloca al centro il riequilibrio dei territori e delle comunità con dinamiche specifiche legate al rilancio del modo del lavoro, invertendo una delle situazioni più critiche dal punto di vista dell'occupazione. Uno dei temi centrali, anche per Estirati, è quello della mobilità che supera i confini regionali, concepite in un disegno ombro marchigiano, sia quella interna per i cittadini e per i visitatori, che è quella in un'ottica di area vasta che va da Urbino a Fabriano, passando per la connessione intermodale con gli aeroporti e i porti. Vale la pena sottolineare e conclude che l'area interna nord-est non è un pacchetto di misure uno a tantum, ma rappresenta una riorganizzazione efficace e duratura, in una visione completamente innovativa del sistema dei servizi e delle modalità per affrontare le problematiche, una visione ampia e non più chiusa ai singoli comuni, destinata a lasciare il segno anche nei prossimi decenni.